ariete finalmente taglierai con il passato e guarderai avanti e accanto a te dove troverai qualcuno pronto a tenderti una mano ed anche il cuore toro oggi pecherai di pigrizia e superficialità direi la tua fermandoti all'apparenza delle cose senza dimostrare un reale interesse gemelli potrebbe arrivare la notizia che aspetti da tempo e che darà una bella scossa alla tua vita giove protegge la tua sfera professionale cancro giornata ottima la tua energia sarà contagiosa al lavoro con il sorriso tutto verrà meglio e anche ridere sotto le lenzuola non sarà male leone invece che litigare è meglio sedersi e confrontarsi con serenità anche se non è sempre facile venere mina l'equilibrio di coppia vergine fermati e rifletti su quanto sia dannosa per te la negatività il pessimismo la sfiducia evita di regalare negatività a chi ti è vicino bilancia finalmente senti che la ruota sta girando e che tutto sta andando nel migliore dei modi e andrà sempre meglio grande energia ed entusiasmo scorpione tutta la giornata sarà vissuta in attesa di una serata che sai bene sarà romantica al lavoro sarai forse distratto e poco coinvolto ma per una volta priorità ai sentimenti sagittario dovrai inesorabilmente rallentare priorità assoluta alla tua non forma fisica devi prenderti cura di te della tua salute e del tuo corpo capricorno sei molto bravo a gestire gli eventi forse una battuta d'arresto professionale che non ti aspettavi ma che saprai gestire nel migliore dei modi acquario il tuo lavoro subirà una battuta d'arresto a causa delle mancanze di qualche collega risolverai tutto ma con fermezza chiarirai i ruoli e le tue aspettative sul lavoro altrui pesci mercurio antipatico quanto basta oggi rallenterà ogni cosa sul lavoro arriverà una telefonata che non ti aspetti tanto per rovinarti la serata